Allora, sono Sergio Brighel, sono il responsabile tecnico della Trans Audio Video SRL, la nostra è un'azienda che da 25 anni lavora nel settore del video professionale e broadcast, inizialmente come distributori esclusivi del marchio Canon per il settore TV Products, quindi per la parte broadcast professionale di Canon, relativo alle ottiche per telecamere professionali e più recentemente, da una decina d'anni a questa parte, invece abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato a diventare integratori di sistemi nell'area sempre del video professionale e quindi vedete qui al Photoshop 2012 a Roma un esempio, seppur piccolo, delle cose che facciamo tutti i giorni, quindi dall'integrazione di sistemi video attraverso i marchi NewTek, Vaddio, quindi NewTek coltricaster, il T-Play, Vaddio con la robotica per fascia medio-bassa fino alle straordinarie camere del range Canon professionale, quindi dalla serie XF e XF300 fino alla nuovissima C300 per cinematografia elettronica, il tutto corredato e integrato in un set di luci a LED della qualità più elevata, quindi marchio Light Panels e tutti gli altri accessori del gruppo Vitec che anche Transaudio Video rappresenta in Italia. Grazie a tutti e arrivederci.